SONO STATO A scuola con figli di indranghettisti Il mio compagno di banca è stato ucciso a Lupara Alcuni dei miei compagni di scuola o di giochi Li ho indagati Nel loro confronto ho chiesto la condanna E sono stati condannati L'andrangheta oggi ha il monopolio della cocaina Dal punto di vista normativo Nella lotta alle mafie in Europa si è all'anno zero Si pensa che il problema sia distante Che il problema di indrangheta, cosa nostra o camorra Sia un problema dell'Italia meridionale Nel maggio del 2008 L'andrangheta è finita nella blacklist americana E quindi equiparata ad Al-Qaeda E a tutte le altre organizzazioni terroristiche Che costituiscono una minaccia seria per gli americani Può capitare di avere paura Però bisogna parlare con la morte Bisogna ragionare Capire che non c'è alternativa Non ha senso vivere da vigliacchi Quindi di tirarsi indietro Bisogna stare molto attenti a chi si frequenta Bisogna stare attenti ad essere molto chiari E guardare le persone negli occhi A dire esattamente come stanno le cose Questa è fondamentale La correttezza della realtà Anche nei confronti del più grande dei mafiosi E forse questo finora mi ha aiutato a vivere E forse questo finora mi ha aiutato a vivere E forse questo finora mi ha aiutato a vivere E forse questo finora mi ha aiutato a vivere E forse questo finora mi ha aiutato a vivere